Cominciano i festeggiamenti in onore dei 100 anni della prima edizione della Coppa Nissena, era il 1922, adesso dopo un secolo, le autostoriche hanno effettuato domenica 5 giugno lo stesso tragitto di una volta con qualche piccola novità. La manifestazione organizzata da G-Sport e Automobile Club di Caltanissetta ha permesso alle più di 70 autostoriche che hanno partecipato di essere ammirate e fotografate dai curiosi appassionati di motori arrivati in centro per vedere la partenza prima dell'inizio delle prove experience. Una bellissima edizione, 75 concorrenti, siamo partiti da Caltanissetta, dalla piazza, poi Capodarso, Pergusa, ospiti dell'autodromo di Pergusa, quindi grazie a Mario Sgol che è il direttore, poi Villa Rosa, Santa Caterina. L'evento si è poi concluso con un momento dedicato alla cultura con la possibilità di visitare il Museo archeologico di Caltanissetta e l'abbazia di Santo Spirito. Questo è uno degli eventi che abbiamo organizzato in preparazione del centenario della Coppa Nissena. La Coppa Nissena si svolgerà dal 16 al 18 di settembre. Questo è uno degli eventi ma abbiamo organizzato tante altre cose molto belle.